che continuare a tenere chiuso sia pensabile o impensabile dipende esclusivamente dai dati a disposizione ha detto venerdì mario draghi riguardo allo scontro in corso nella maggioranza sulle riaperture dopo pasqua tra i dati a disposizione però ci sono anche questi 22 mila imprese già scomparse dall'inizio dell'epidemia con 243 mila posti di lavoro persi a causa delle misure di sicurezza imposte per tentare di contenere il virus era tutto necessario le norme anti covid sono state calibrate alla perfezione molti esempi suggeriscono di no e anche nella comunità scientifica in tanti iniziano a nutrire dubbi sull'efficacia dei lockdown duri addirittura dannosi secondo la ricerca di un'università scozzese che abbiamo pubblicato alcuni giorni fa su libero di riflesso anche la politica si divide e sicuramente tra gli scettici possiamo annoverare il leader della lega draghi zittisce salvini titolavano alcuni giornali ieri a proposito del dibattito in corso in realtà matteo non è mai stato in silenzio già in mattinata è tornato a parlare le sue idee non sono cambiate se dopo pasqua la situazione sanitaria in tante città italiane sarà tornata tranquilla e sotto controllo secondo voi sarà giusto riaprire bar ristoranti scuole palestre teatri in sicurezza secondo me sì il sostegno più utile e importante è tornare al lavoro insomma il capitano contesta i piani di palazzo chigi che al momento sembrano un brutto sequel dei già orrendi film di giuseppe conte in particolare per quanto riguarda l'eliminazione delle zone gialle se le cose migliorano perché non prevedere misure più leggere i rapporti con draghi restano ottimi assicurano fonti del partito però ci sarà da discutere com'è impossibile immaginare delle aperture senza conoscere i dati con lo stesso metro di giudizio non si possono neanche immaginare delle restrizioni nella lega c'è chi lo definisce il partito del terrore speranza franceschini che in modo semplicistico punta a risolvere il problema dei contagi tenendo tutto chiuso il carroccio invece spera che i contagi calino anche grazie al maggior numero di vaccinati e alle restrizioni di questi giorni ecco perché immaginiamo che nelle prossime settimane si possano prevedere delle ragionevoli aperture nei territori dove il virus è meno aggressivo